È di certo un dramma quello che si è consumato in un appartamento a Montemario, a Roma, dove sono state trovate senza vita una donna di 83 anni, Elena Bruselles, e sua figlia Luana Costantini, di 54 anni. Quello che farebbe pensare all'ennesima tragedia della solitudine e della difficoltà, su cui adesso peserebbe però anche l'ombra dell'esoterismo. È stato il figlio a dare l'allarme, non avendo da tempo notizie delle due donne, così quando i soccorretori sono entrati in casa hanno trovato la donna di 83 anni, malata da tempo e allettata, morta probabilmente da almeno un mese, mentre sua figlia, trovata in un'altra stanza, morta da qualche giorno. Avrebbe quindi vegliato la mamma a lungo, in casa, senza chiedere aiuto. Entrambe sul corpo non avevano apparenti segni di violenza. Gli agenti del commissariato Primavalle, che si occupano delle indagini, al momento non escludono alcune ipotesi. Uno dei sospetti è che l'anziana donna possa essere deceduta durante un rito esoterico, forse di magia nera, portato avanti dalla figlia infermiera. In casa, infatti, sono stati trovati candelabri, tuniche, formule magiche. Sembra che la donna, accumulatrice seriale, che aveva centinaia di bottiglie di birra vuote, appartenesse a un movimento occultista sul web, Cubitrix. Sul suo profilo Facebook parlava, infatti, delle attività social di questa comunità, che sponsorizza corsi di magia e tantra nero. Il fondatore, che si fa chiamare Sciamano Shekinah Shekinah, è l'ex fidanzato di Luana Costantini, Paolo Rosafio, rientracciato a Lecce. A parterebbero a lui alcuni indumenti trovati nell'appartamento. Sarà l'autopsia sul corpo delle donne a fornire ora ulteriori dettagli agli inquirenti, per chiarire come siano andate davvero le cose.